Ancora niente soldi per Pietralunga. Il comune Alto Tiberino è che a settembre era stato pesantemente danneggiato da un alluvione soprattutto nella zona artigianale. A distanza di poco più di due mesi e dopo l'ennesima interrogazione in consiglio regionale con un faccia a faccia fra il consigliere regionale del PD Alto Tiberino Michele Bettarelli e la risposta dell'assessore Enrico Melasecche, il sindaco Mirco Ceci e Lapidario. Ad oggi ha detto agila dei proclami di stampa non è uscito nessun tipo di ordinanza ufficiale, ha detto aggiungendo che sui 600.000 euro che verranno stanziati e che dovrebbero essere ripartiti per tre comuni verranno anche detratti i soldi che la regione aveva impegnato, circa 150.000 euro. Il primo cittadino inoltre mette in evidenza come ci sia un problema oggettivo che va oltre al fatto del danno. Ci sono ancora infatti zone del fiume che debbono essere sistemate, le sponde sono ancora piene di materiali inerti e massi e quindi se si verificasse nuovamente un episodio di pioggia abbondante c'è il rischio dell'esondazione del fiume. Non può essere lasciato una situazione di pericolo come quella attuale, ancora aggiunto ricordando che il comune fra i primi interventi che ha messo in atto è stato proprio quello della pulizia degli argini del fiume, impegnando circa 55.000 euro in opere effettuate nell'area di competenza dell'amministrazione. Non solo, ma tutto il materiale tolto dovrà essere poi smaltito come rifiuto speciale. Il sindaco inoltre spera che nel bilancio regionale ci siano degli aumentamenti per fare sì che la pulizia dei fiumi sia sistematica e non un'opera straordinaria, mentre ricorda che ancora le aziende sono ferme.